La tappa di oggi a Campobasso è l'ultima tappa sul territorio, ce ne saranno solo ulteriori due a Roma, di un tour che INAIL ha percorso in tutta Italia per discutere di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Una sfida che si può vincere solamente mettendo intorno al tavolo tutti i protagonisti, le istituzioni del territorio, i rappresentanti del mondo del lavoro, i rappresentanti delle aziende italiane, l'università, oggi abbiamo avuto a Campobasso anche ospite, graditissimo il Vescovo che ha portato parole di grande conforto e grande sprone. Questo è il modo con cui affrontiamo la sfida della sicurezza perché è una sfida fatta di ingredienti antichi, la risposta ai rischi che conosciamo da sempre, cadere da un'impalcatura e la risposta ai rischi invece in arrivo, quelli connessi alle grandi trasformazioni del mondo e del mondo del lavoro, il clima, il digitale, una popolazione, quella italiana che invecchia. Per questo la risposta che cerchiamo di mettere a terra la costruiamo con tutti i partner che troviamo lungo la lunga Italia questo è lo spirito di Made in Inail e siamo contenti di averlo concluso, questo tour, oggi a Campobasso. Sicurezza in testa è un modo per giocare con il tema della sicurezza, giocare però in maniera seria, sicurezza in testa vuol dire che deve essere in testa a tutte le funzioni aziendali per avere una salute e sicurezza migliore nei luoghi di lavoro, deve essere in testa agli imprenditori già nel momento in cui investono in nuove opportunità economiche, deve essere in testa agli stessi lavoratori, la sicurezza è un sistema partecipato, quindi anche il lavoratore deve avere la sicurezza in testa e portarla nella sua scala di valori. Non lavorare in sicurezza vuol dire anche danneggiare i compagni di lavoro, ma la fine dei giochi significa anche danneggiare la propria famiglia. Lavorare in sicurezza è sicuramente più faticoso, ma è un dovere oltre che un obbligo normativo, un dovere morale. Il Molise, il discorso è molto ampio, vediamo che gli infortuni stanno diminuendo, perlomeno le denunce, abbiamo invece un raddoppio delle denunce di malattia professionale e questo vuol dire che l'aver contratto una patologia per motivi di lavoro non è la migliore prova di un lavoro in sicurezza.